Con l'approvazione di una delibera di giunta, l'amministrazione comunale dice basta al transito di imbarcazioni nucleari nel porto di Napoli. Una battaglia simbolica contro la militarizzazione del territorio, lanciata dal sindaco De Magistris e accolta con entusiasmo dagli ecopacifisti che da anni si battono per questo scopo. Diciamo no all'ingresso di navi con armi nucleari o ad energia nucleare, quindi è un atto forte. Noi vogliamo costruire un mare di accoglienza, di pace, che non ci sia pericolo per la salute. Se ci fosse un disastro nucleare sarebbe per sempre per il nostro porto. Quindi è un messaggio molto forte all'Unione Europea, alla Nato, al nostro governo e qua a Napoli vogliamo costruire pratiche diverse, di pace, di solidarietà, di inclusione e non di guerra. La delibera di giunta, ha affermato il sindaco, è un messaggio forte rispetto alla grande esercitazione militare che si terrà in Europa dal 3 ottobre al 6 novembre e precede l'atto con cui sarà consegnata definitivamente alla città l'area liberata dell'ex base Nato. C'è stato questo lungo iter con la fondazione Banco Napoli, adesso dopo un lavoro complicato, complesso e difficile, ma importante, fatto dal comune, dalla fondazione e adesso anche dalla nuova regione, abbiamo ragione di ritenere che nei prossimi giorni si andrà verso la costruzione di un modello di vita di grande rilievo per la nostra comunità nell'ex area Nato. Si firma un documento nel quale saranno indicate le attività che si andranno a realizzare nell'ex area Nato e che saranno attività molto importanti per il nostro territorio, con particolare riferimento al lavoro, ai giovani, allo sport, all'intrattenimento, all'autoproduzione economica e anche un messaggio forte per l'accoglienza. Nonostante la crisi economica, in Italia si spendono circa 80 milioni al giorno in strutture militari, armamenti e missioni all'estero, ha sottolineato padre Alex Zanotelli del Comitato Pace e Disarmo. Il prossimo 24 ottobre partirà da Napoli una manifestazione nazionale per dire no alle armi nucleari e alla devastazione ambientale.